Buongiorno a tutti e benvenuti nello spazio virtuale di Peruzzo. Oggi ho il piacere di presentarvi Robofox Hybrid, la nuova macchina trincia erba radiocomandata compatta a marchio Peruzzo. Prodotta interamente in Italia con componentistiche di altissima qualità è una macchina fortemente innovativa mossa da un motore da 28 cavalli a marchio Briggs Stratton di ultima generazione. Questo motore bicilindrico EFI da 810 cm3 pur dotato di potenza elevata permette consumi contenuti e bassa emissione sonore e garantisce un'affidabilità anche nel lungo termine. Il motore con garanzia fino a tre anni è collegato direttamente alla tistata trinciante mediante una trasmissione meccanica consentendo dunque di sfruttarne appieno la potenza complessiva. Dotato dell'innovativo sistema brevettato denominato Oil Guard System consente alla macchina grazie alla lubrificazione forzata dell'olio ed a un serbatorio esterno di lavorare ininterrottamente su pendenze fino a 45 gradi. Inoltre e grazie alla circolazione dell'olio esterna al motore evita un prematuro deterioramento termico dello stesso facendo risparmiare tempo nelle fasi di manutenzione. Basti pensare che con Robofox Hybrid la sostituzione dell'olio non avviene più dopo 100 ore di lavoro bensì dopo 500 ore di lavoro. Il cuore pulsante di questa macchina è senza dubbio il gruppo di taglio anteriore dotato di rotore con coltelli a y o a palette in acciaio forgiato. Robofox Hybrid non teme erba alta o bagnata e nemmeno piccoli arbusti di vario genere. Il robusto gruppo di taglio riesce infatti a triturare la maglia fino a 3 cm di diametro. Inoltre la scocca è fortemente innovativa e permette uno scarico dell'erba agevolato grazie ad un'apposita regolazione della controlama. Robofox Hybrid dispone inoltre di una barra di sollevamento flottante e molla agevolatrici regolabili in grado di seguire sempre fedelmente l'andamento del terreno e di operare dunque in ogni condizione di meteo. Entrambe queste soluzioni garantiscono un'aderenza ai massimi livelli. A questo si aggiungono prestazionali cingoli a 180 mm di larghezza che oltre a ridurre l'impatto al terreno consentono una tenuta ottimale in ogni condizione, anche la più estrema. La movimentazione elettrica dei cingoli di cui è dotata Robofox permette all'operatore di spostare la macchina anche in luoghi chiusi senza dover accendere il motore termico. Questo aspetto non solo evita di inalare emissioni dannose alla salute ma rende la macchina ibrida consentendo consumi di carburante ridotti pari a 5 litri di benzina in media in un'ora di lavoro. Non da ultimo questa soluzione permette in caso di avaria del motore termico su pendio di riportare la macchina alla base. Al contempo e grazie alla funzione Zero Turn gli spazi a gusti non sono un problema in quanto la macchina vi si muove con piena agilità. La manutenzione di Robofox Hybrid è estremamente facile, veloce e intuitiva. L'impiego di viti da un quarto di giro permette che i carter, costituiti interamente in materiale ABS, fono assorbente e possono essere rimossi facilmente. Tutte le azioni più comuni per la manutenzione della macchina possono essere infatti effettuate in piena autonomia senza la necessità di essere aiutati da altre persone. Robofox Hybrid integra di serie nel suo telaio un robusto rollbar che protegge tutta la componentistica interna in caso di ribaltamento. A richiesta può essere anche montato un sensore inclinometro utile per avvertire l'operatore al raggiungimento dell'angolo limite di lavoro. Tutto il processo di verniciatura della macchina avviene totalmente presso fornitori italiani e grazie a sofisticate soluzioni tecniche subisce un doppio ciclo di verniciatura con fondo antiruggine e vernicia polveria ad alta resistenza. Il peso della macchina rimane comunque contenuto con i suoi 690 kg complessivi. Questo le permette di lavorare in tutta tranquillità sul pendisco scesi con pendenze sino a 45 gradi. Inoltre le sue misure compatte con una larghezza complessiva di 105 cm e il suo design accattivante riescono a far sì che Robofox possa operare in completa sicurezza in luoghi pervi con spazi di manovra limitati e sempre in completa sicurezza. Tutte le funzionalità della Robofox Hybrid sono facilmente gestite dall'operatore attraverso l'intuitivo radiocomando comportata fino a 150 metri dotato di una tecnologia che permetta lo stesso di cambiare automaticamente canali di trasmissione qualora si dovesse presentare interferenze elettromagnetiche durante le fasi di lavoro. A questo si aggiunge l'utilissima funzionalità del controllo di deriva che permetta alla macchina di compensare l'eventuale scivolamento durante le fasi di lavoro. Utilissimi visori informativi a bordo macchina permettano all'operatore di rendersi conto in tempo reale di eventuali anomalie tramite specifici codici d'errore, delle ore di lavoro complessive e dello stato della batteria. Quattro comodi punti di ancoraggio e sollevamento permettono sempre un carico agevoli su mezzi di trasporto anche di ridotte dimensioni quali furgoni con passaruota stretti o ribaltabili di medie dimensioni. Con apposito kit Robofox garantisce inoltre un beneficio fiscale con aliquota pari al 50% del costo grazie alla legge di bilancio 2021 relativa al credito di imposta 4.0. Non perdere questa occasione il vantaggio è ancora maggiore e puoi approfittarne fino a dicembre 2022. A tutto questo si aggiungono inoltre alcuni dispositivi aggiuntivi quali carica batterie supplementare per rimessaggi prolungati per mantenere un livellamento della carica, fari supplementari a led per una visione sempre chiara e precisa anche in caso di scarsa visibilità. Robofox Hybrid è la soluzione ideale per coloro che necessitano di una macchina dalle elevate prestazioni ma che puntano a contenere i costi sia di esercizio che di manutenzione. Potenza, bassa rumoresità e alta qualità di taglio in un'unica macchina. Robofox Hybrid è disponibile da subito e commerciali della Peruzzo rimangono sempre a tua completa disposizione in caso di dubbi ed eventuali domande. Vi aspettiamo!